All'Istituto Agrario Cecchi di Pesaro coltiviamo il futuro. Al Cecchi prepariamo i futuri periti agrari e agrotecnici, imprenditori agricoli, viticoltori, allevatori, manutentori del verde, promotori dei prodotti del territorio, consulenti di imprese e aziende agricole. Ma tra i nostri ragazzi e le nostre ragazze ci sono anche i futuri agronomi, dottori forestali, enologi, veterinari e ancora chimici, biologi, nutrizionisti, ingegneri, medici, infermieri, matematici, fisici, farmacisti. Ma contadino, a chi? Per informazioni scrivere a orientamentochiocciolaistitutoagrariocecchi.edu.it